Musica Amici di Patrimonio Italiano TV ancora qui alla parata del Columbus Day ancora con patrimoni italiani nel mondo Siamo con il fashion designer Domenico Vacca, Puglia protagonista in questa parata del Columbus Day Sì, mi sento un po' responsabile per questa partecipazione, a giugno Michele Emiliano il presidente della regione Puglia era qui a New York è venuto a trovarmi nel mio headquarters di New York e gli ho detto ma perché non vieni a New York e partecipi alla Columbus Day Parade e rappresenti la Puglia e così portiamo un po' di Puglia sulla quinta strada a New York Michele gli è piaciuta moltissimo l'idea e qualche mese dopo siamo tutti qui quindi sono molto contento di aver portato la delegazione della Puglia, il presidente Emiliano e questo gruppo di ballerini fantastici della Taranta per portare un po' quello che è un pezzo di Puglia sulla quinta strada a New York Domenico Vacca come abbiamo detto è un patrimonio italiano a New York, c'è tanta Italia a New York e c'è tanta Italia come vedete che si distingue Beh sì, gli italiani sono un po' tanti a New York e sono poi molto cresciuti negli anni adesso non c'è più una Little Italy ma c'è una Big Italy che copre un po' non solo Manhattan ma anche tutti i boros di New York e anche le altre città negli Stati Uniti penso che gli italiani sono cresciuti molto, oggi hanno delle posizioni importanti, hanno avuto successo quindi è un'Italia certamente più internazionale e più di successo ed è per quello anche per alcuni di noi che abbiamo vissuto on and off qui per almeno una trentina d'anni è interessante creare, intensificare gli scambi tra l'Italia e gli Stati Uniti quindi portare l'Italia qui e portare un po' di America in Italia e creare un ponte che poi alla fine possa aiutare all'Italia a crescere ancora di più sia gli italiani lì che gli italiani in America Allora Domenico io ne approfitto, ti inviteremo in trasmissione in diretta Skype durante il mese di novembre quando ricominceremo per parlare un po' anche dei tuoi progetti e quant'altro intanto ti invito a fare un saluto a tutti gli amici italiani a New York nel mondo e a tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV Saluti a tutti voi di Patrimonio Italiano TV seguite tutto ciò che è italiano, Made in Italy è importante e complimenti per il vostro lavoro qui su questo fantastico canale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti